Zure, idiamo a provoditi tatu Evo subota, prije poodne, malo prije polaska u Zenicu Maki nam se naravno ne javlja, probat ćemo mu sad nazvat njegovu majku Olgu Evo ćemo mu zvat mamu da vidimo, je li sluša ili ne sluša, pitaj mi sad je li Maki sluša Neću Nijes još evo Bok, vajda spavaju 100% spavaju Pa ne, ajmo ih pobudit ću mi Vajda ne spavaju, vajda su dućano Halo Dobro jutro Beograde Evo, Denis, otkuti Pa ja hoću tvoju majku dobiti, a ti se javljaš, jesi se probudio To je Makir, pozdravi ga Evo, spremamo se na grubu, evo ti, trčim do vece, evo ti ovaj Molim Dobar dan, teta Uga Dobar dan Dobar dan Dobar dan Jel' sin spreman, jel' sin spreman za put Vozimo se kroz Zenicu Sutra sam malo ispremio auto za Maki Da mu bude ljepši interijer auta Sve je u tonu Tako da ću ga sutra dočekat Lijepan bijen, dok se budemo vodili Sarajeva razad tu prema Zenici Imamo još nekih 70 km do Sarajeva Tako da pri kraju smo puta za danas Olivera, slušamo sve, ugođuje Toma Evo dok smo u Sarajevu smješteni smo u Makijevom Pa praktički prebivališto kad je on u Sarajevu To je Hotel Hollywood Evo, neđedno je jutro, malo imam slobodno jutro Dok se ne nađem poslije sedamo i Makijem I dok ne idemo na utakmicu Ja sam odlučio ovdje u blizini I vjerujem da svi koji su iz Bosne i Hercegovine Pa znaju ili su bili ovdje Ali ja još nisam imao priliku biti Tako da me jako jako zanima Tunel spasa Ovdje koji je u blizini Iliđa I odmah kod aerodroma Koji svi znaju koliko je značio Za sve građane Sarajeva pa i Bosne i Hercegovine Za vrijeme tog nesretnog rata Tako da ću ići baš pogledati I vidjet ćemo unutra neke snimke i fotografije Iliđa Ovo on je Ovo je moje Sarevska ruža Iliđa A kaj oklario ovo? Ovo je Ipad Uškodja Sì, è vero. Scusi di interruzione. Non è vero, non è vero. Un' explosione. Un' explosione. Un' minobaccia di granato. E dopo il rato, un' rato si è rato in un' suono. E noi abbiamo chiamato Sarajevo. E, cosa è interessante, in questo modo, noi possiamo accettare la granata. Sì, vedete come i minabacati svegliano? Abbacano il granito, il calibrac è arrivato dal mezzo 80 e 90 stupnini. Il granito è l'acqua. Questo è primario. L'acqua è l'acqua. L'acqua è l'acqua. L'acqua è l'acqua. L'acqua è l'acqua. In Sarajevo, in Sarajevo, vedete? In Sarajevo, in Sarajevo, 5 civili sono più ovi. Un'acqua è l'acqua. Ma c'è il nostro canale. In Sarajevo, in Sarajevo. Cosa è la cotta? Cosa è la cotta? Grazie a tutti. 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 io sono nato in Zanićanin, mi sono nato per molti di uccelli sei sretato? sei sretato oggi? non voglio dire che ho provato, non voglio tutto non voglio tutto, non voglio è stato molto divertito grazie a tutti, grazie a tutti, si è stato molto pomogato oggi stavano si otvarao vrata come un gioco di Džoković Sì, mi sono riusciti. Sì, mi sono riusciti. I giovani Isaković, Salcinović, i così, mi sono riusciti. Nole ha detto, sono riusciti a 20 giovani con il protocollo 17. E' un' interessante. E' un recetto. E' un recetto. ... Ti sei sreća, di si moja riuscima, prve suze moje, da' je l'ubav zastava, koje bi' bila tvoje crno Grazie a tutti. Grazie a tutti.